Episodio 25 Meglio e peggio Amiche e nemiche Ciao, io sono Ilaria di ilaz.com, fondatrice del progetto IlaZ ed insegnante d'italiano. Nel corso degli ultimi anni ho aiutato centinaia di studenti a imparare e a sentirsi a proprio agio con questa lingua. Ed è proprio questo che voglio fare anche con te. Attraverso questo podcast voglio aiutarti a parlare in modo fluido in italiano. Il metodo è semplice. In ogni episodio ascolterai una breve storia e risponderai ad alcune domande su di essa. Dopo che avrai risposto ti svelerò le frasi corrette. In questo modo potrai confrontare diverse risposte ed individuare gli eventuali errori. Prima della storia ci sarà una breve spiegazione su vari argomenti, tra cui grammatica, vocabolario, espressioni idiomatiche e tanti consigli per migliorare questa lingua. Nell'episodio di oggi vorrei parlarvi delle parole meglio e peggio. Due avverbi molto usati in italiano, essendo avverbi accompagnano il verbo e ci danno maggiori informazioni su di esso. In particolare, meglio corrisponde a più bene, peggio corrisponde a più male. Dunque, prediligete sempre questi due ultimi termini. Bene, dopo questa breve spiegazione proviamo ad esercitarci con la storia di oggi. Amiche e nemiche Lorenza e Mia sono due ragazze che si conoscono da sempre. Sono nate e cresciute nella stessa città, sono molto legate tra loro, ma allo stesso tempo sono piuttosto diverse e competitive. In molti le definiscono amiche e nemiche. Chi sono le protagoniste di questa storia? Le protagoniste della storia sono Lorenza e Mia. Da quanto tempo si conoscono Lorenza e Mia? Loro si conoscono da sempre. Che rapporto c'è tra le due ragazze? Loro sono molto legate, ma sono anche piuttosto diverse e competitive. Come sono definite dalle persone? Le persone definiscono Lorenza e Mia amiche e nemiche. Lorenza ha una personalità molto decisa. Pensa di conoscere e di saper far tutto meglio degli altri e ritiene che l'audace e la spavalderia siano le chiavi per vivere la vita in pieno e al meglio. Mia, invece, è una donna più tranquilla e riflessiva che preferisce vivere ogni momento con calma e serenità. La cosa più importante per lei non è la meta finale ma il percorso intrapreso per raggiungerla. Quali caratteristiche a Lorenza? Lorenza ha una personalità molto decisa pensa di conoscere e saper far tutto meglio degli altri e ritiene che l'audace e la spavalderia siano le chiavi per vivere la vita in pieno e al meglio. Quali caratteristiche ha Mia? Mia è una donna più tranquilla e riflessiva che preferisce vivere ogni momento con calma e serenità. Come si ritiene Lorenza rispetto agli altri? Lorenza pensa di conoscere e di saper far tutto meglio degli altri. Secondo Lorenza, come si può vivere la vita al meglio? Lorenza pensa che l'audace e la spavalderia siano le chiavi per vivere la vita in pieno e al meglio. Secondo Mia, come si può vivere la vita al meglio? Per Mia è importante vivere ogni momento con calma e serenità. Non bisogna concentrarsi sulla meta finale ma sul percorso intrapreso per raggiungerla. È vero che Lorenza e Mia sono due amiche? Sì, è vero. Come sono definite dalle persone? Loro sono definite amiche nemiche. Perché sono definite amiche nemiche dagli altri? Sono definite amiche nemiche perché anche se sono molto legate tra loro allo stesso tempo sono piuttosto diverse e competitive. Questi due modi totalmente diversi di vivere la vita danno inizio a interminabili discussioni tra le due. Ti troveresti molto meglio se parlassi direttamente col tuo capo. Non farti mettere i piedi in testa, dice Lorenza, sempre battagliera e pronta alla guerra. Ma no, devo temporeggiare e vedere che succede. Se poi continuo a trovarmi male, anzi, anche peggio di così, proverò a essere più diretta e a parlargli chiaramente. È vero che le due ragazze hanno lo stesso modo di vedere e affrontare la vita? No, non è affatto vero. Sono totalmente diversi. Che consiglio dà Lorenza all'amica su come affrontare il capo? Lorenza dice all'amica di parlare direttamente con lui. Cosa intende Lorenza con non farti mettere i piedi in testa? Con questa frase Lorenza vuol dire alla sua amica di farsi rispettare dagli altri e non essere vittima delle decisioni altrui. Mia accetta il consiglio dell'amica su come comportarsi col capo? No, non lo accetta totalmente. Infatti, dice che preferisce temporeggiare e vedere che succede. Secondo Lorenza, qual è l'unico modo per l'amica di trovarsi meglio al lavoro? Secondo Lorenza, l'unico modo per l'amica di trovarsi meglio al lavoro è parlare direttamente col capo e non farsi mettere i piedi in testa. Qual è la strategia di Mia per trovarsi meglio al lavoro? Mia preferisce temporeggiare e vedere che succede. Se la situazione non cambia cosa farà Mia per sentirsi meglio? Se la situazione non cambia Mia proverà a essere più diretta e a parlare chiaramente col suo capo per migliorare la situazione. Se la situazione non cambia cosa farà Mia nel futuro per sentirsi meglio? Se la situazione non cambia Mia proverà a essere più diretta e a parlare chiaramente col suo capo per migliorare la situazione. Fa come credi ma se c'è qualcosa che ti fa star male non puoi aspettare in eterno. Sarebbe molto peggio per te continuare a tollerare questa situazione. Continua in perterrita Lorenza. Lo so da una parte hai ragione ma non sempre tutto si risolve alzando un gran polverone. So di cosa ho bisogno per vivere bene e per star meglio. Aspetterò un po' e poi cercherò un confronto pacifico. Sono sicura che dopo aver chiarito tutti noi ci sentiremo molto meglio di così e lavoreremo in un ambiente più sereno e pacifico. È vero che Lorenza e Mia la pensano sempre allo stesso modo? No, non è vero. Spesso il loro modo di vedere le cose è totalmente diverso. Perché secondo Lorenza la sua amica mia deve fare qualcosa? Perché sa che Mia sta male al lavoro e se non fa qualcosa sarà solo peggio per lei. Mia concorda con l'amica? Sì da una parte concorda con lei ma dall'altra parte preferisce aspettare per vedere come vanno le cose. Perché Mia vuole evitare di parlare col capo almeno inizialmente? Perché sa cosa vuole e almeno inizialmente preferisce aspettare e non alzare un polverone? È vero che Mia quando parlerà col capo alzerà un gran polverone? No non è vero cercherà un confronto pacifico. Mia è fiduciosa nei confronti del futuro? Sì lei è molto fiduciosa pensa che dopo aver chiarito tutti si sentiranno molto meglio. Mia e Lorenza sono diverse? Sì sono molto diverse e hanno visioni della vita molto diverse. Che differenze ci sono tra Lorenza e Mia? è molto decisa è sempre battagliera e pronta alla guerra. Mia invece è più tranquilla e riflessiva e preferisce vivere ogni momento con calma e serenità. Dai discorsi delle due ragazze emerge la loro personalità? Sì dalle discussioni delle due ragazze emergono due personalità molto diverse. bene siamo giunti alla fine di questo episodio. A questo punto puoi scegliere di riascoltare questo episodio e di continuare a fare pratica con le domande e le risposte che conosci già oppure puoi scegliere di ascoltarne uno nuovo. Ricorda sul mio sito www.ilazet.com puoi trovare tutti gli script e tante informazioni per imparare la lingua italiana. per la lingua italiana.